Allora Gocci, non ci vinto complimenti, passiamo della spazio, pensavo io. Allora, che cosa dire, una partita condotta sui binari dell'equilibrio fin dall'inizio con la Savio che all'inizio aveva provato a prendere dei piccoli vantaggi sempre recuperati e poi alla fine, 30 secondi purtroppo di distrazioni, quando tutto sembrava compromesso, a due minuti alla fine su meno 5, qualunque squadra avrebbe mollato, una reazione di gruppo, una reazione di coesione veramente impressionante da un punto di vista offensivo e difensivo che ha lasciato tutti sbalorditi e tutti entusiasti. Perché abbiamo giocato gli ultimi 3 minuti, abbiamo giocato con la aggressività, con il giudice di risultare 40 minuti, abbiamo giocato di squadra con il giudice di risultare 40 minuti, noi invece per 38 minuti ci siamo sempre affidati a soluzioni dei singoli senza avere un gioco di squadra. Una partita troppo nervosa, molti sono dedicati a parlare con l'altro invece di pensare alla partita, quindi probabilmente c'è mancato un po' di concentrazione in campo e l'adrenalina degli ultimi 2 minuti ha supportato questa non concentrazione durante la partita. Però neanche l'affondo, quindi complimenti, le prossime cerchiamo di viverle in maniera un po' di stena anche per la nostra salute. Non lo affondo però, sono anche un gruppo di amore. Tanti, tanti, tanti complimenti e bocca al lupo per le prossime. Grazie, grazie. Grazie a tutti.